Benvenuti, è un piacere accogliervi qui a Quirinale e fare gli auguri più grandi, sarà accompagnata tra tutti, sarà un'ulteriore splendida esperienza, è un piacere anche fare complimenti alle agenzie per quello che viene fatto, siamo proiettati con concretezza nel futuro. Signor Presidente, buongiorno e davvero grazie per accoglierci nuovamente qui al Quirinale, è un piacere immenso perché in questi sette anni lei ci è stato davvero vicino, ricordo con grandissimo piacere il collegamento che avevamo all'inizio del suo setennato quando io ero nello spazio per la prima missione e soprattutto la possibilità di portare nello spazio una bandiera italiana. La ringrazio, consegnare la bandiera è un grande piacere perché è simbolicamente nelle mani migliori per far vedere chi andrà verso il futuro. Grazie. 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 Grazie.